chi è mister marra cos'è il cerbero podcast ho entrato un attimo che ti va ecco siamo in live così ti posto la domanda andrà fatta al contrario anche se l'hosta quando stai online serve poco però magari se entrano dal nostro ci vedo ok perfetto allora chi sono io un ragazzo di 28 anni che ha lavorato nel campo del fitness io dopo aver preso il diploma in grafico pubblicitario poi magari ci torneremo ho cominciato subito a fare dei corsi con il coni con determinate associazioni affiliate al coni come la fipe all'epoca si mafi pcf che la federazione italiana paesistica e cultura fisica oggi si chiama semplicemente fipe e ho conseguito quindi un attestato federale mi ha permesso di esercitare quella professione ho cominciato a fare un po la gavetta nelle palestre del coni e l'ho fatto per dieci anni praticamente perché ho iniziato subito 18 anni sono 28 mi sono occupato principalmente di quello lavorativamente parlando la strada del grafico pubblicitario non ho mai perseguita perché francamente dopo i cinque anni a scuola mi era calata un po la voglia ecco diciamo e ho acquisito diverse informazioni per quanto riguarda la comunicazione pubblicitaria le ho mantenute nel senso che quello è un mondo che mi è sempre piaciuto per quanto riguarda la grafica no anche perché quando ho finito scuola 18 anni non ho praticamente più toccato il computer per problemi economici non avevo possibilità di avere un computer quindi sono stato dieci anni senza usarlo e mi sono dimenticato tutto e parallelamente a questo quindi alla diciamo alla passione dal lavoro nell'ambito nutrizione sport ho studiato in maniera diciamo da autodidatta determinate cose come il cinema ad esempio alcune componenti artistiche eccetera soprattutto comunque il cinema e mi sono formato un po mio pensiero critico anche grazie alla letteratura e quindi ho detto un paio di anni fa questa passione che ormai coltivo da tanti anni intorno ai 12 13 anni è veramente esplosa questa passione per il cinema condividiamola oltre che con i quattro amici stronzi che si chiudono in casa con te e i film dei godarda sono veramente due qualche fighetta che rimorchi perché insomma si bagna ho detto va bene allora condividiamo questa cosa anche ad altri e ho aperto il canale youtube sì due anni due anni mezzo fa dove parlavo solo di cinema erano video orribili fatte tipo col samsung registrati con il cellulare in bianco e nero addirittura per far finta il senso di transitorietà ma in realtà era perché faceva così schifo la qualità e a quel punto dicevo no no c'è io devo cosa fatto apposta no un po naif quindi mascheravo un po insomma l'aspetto estetico orribile ed erano video abbastanza orrendi non erano fruibili però una piccola sì anche se poi la forma è spesso contenuto quindi se tu se tu parli anche in maniera corretta determinate cose la forma troppo troppo scadente limita anche il messaggio e quindi ho cominciato una piccola nicchia di appassionati al cinema mi cominciò a seguire anche perché precedentemente ho aperto un gruppo facebook qualche mese prima che ebbe un grande successo su facebook è ancora attivo tra l'altro anche se io non ci lavoro su questa tematica sempre sul cinema se il cinema è letteratura e anche se ormai praticamente non ci sto più a non sono più attivo lì ogni tanto insomma passo così per rivedere la mia vecchia creatura e quindi parte del pubblico che avevo acquisito su facebook riusci a trasferirlo anche su youtube quanto era parlando i numeri quanto era questo gruppo quante persone guarda intorno penso oddio all'inizio 7 8 mila che per essere comunque una cosa di nicchia aperta da poco se non era male anche abbastanza attivo e niente nel giro di un annetto feci quei 4000 iscritti su youtube poca roba ma era anche troppi secondo me ok e semplicemente lo tenevo come hobby ok c'era così una mia passione che condividevo con altri continuando il mio percorso con la palestra insomma da personal trainer da istruttore poi dall'accento come a roma dico suppongo l'accento si intuisce vagamente no perché io pure sono romano e lo maschero abbastanza bene il mio romano di che parte roma sei allora adesso vabbè diciamo non vorrei dare troppe informazioni perché cosa vabbè diciamo zona vabbè sono nato comunque intorno a una zona abbastanza periferica di roma poi in realtà da piccolo ci siamo spostati più volte perché insomma come famiglia non era il massimo dal punto di vista economico come ho detto quindi stavo un po a rebibbia un po altre parti del cazzo e diciamo sì poi l'ultima abitazione prima andava da solo e raccogli albani diciamo dalla tuscolana insomma anche vicino a san giovanni se vogliamo poi che successe che tramite un altro gruppo facebook quindi facebook all'epoca ancora non era da boomer due anni fa era proprio al limite questa cosa è veramente condivisa condivisa orizzontalmente da chi da chi cerca piattaforme un po nuove come twitch ormai facebook è veramente diventato una cloaca massima io sono entrato ieri in un gruppo bellissimo tutti contro il 5g sono entrato dentro era una cosa magnifica cioè bruciamo le centenne ci portano le malattie c'è chi l'ha fatto era no no sì sì ma è fantastico infatti aveva fatto anche informato divertente su youtube che era marra l'infiltrato cioè che entrava in questi gruppi comunque scusami giusto per contestualizzare dato che noi siamo io una pagina su facebook che usavo anni anni fa però ora per le dirette la restremmo questa live quindi siamo preso facebook e cioè fiorella fiorella franco che credo sia un profilo condiviso che dice già luigi dovresti far richiedere scusa per le donne della community si bagna un linguaggio assolutamente schifoso e inaccettabile così giusto ma è seria o sta scherzando no no è serie serie suppongo vabbè io me ne vado allora andiamo avanti andiamo avanti come si chiama questa ragazza o signora fiorella si fiorella perdona il mio linguaggio sceno però amo pasolini quindi non sono insomma penso che il linguaggio in base al contesto possa essere utilizzato in determinati modi ma non serveva comunque era divertente di integrare questi commenti ma facebook si dopo in realtà non ho capito cosa ci sia di male nel bagnarsi una delle cose più bene ma pensi di un uomo si arrapano da non si può bagnare era un po una un iperbole non credo che bagnare sia nelle parole volgari ma purtroppo in questo mondo iper politicamente corretto siamo siamo fritti specie noi maschi bianchi etero cis siamo fottuti però fottuti entrambi a proposito di questo stavo leggendo ieri io seguo spesso canali comunque articoli anche internazionali nord america e canada su questa politica lì correct stanno veramente andando oltre e c'era e c'era quest'articolo questa parola non la conoscevo glamorize quindi se tu rendi glamour qualcosa di negativa adesso vieni insultato e quasi veramente vessato perché sta rendendo glamour una cosa negativa quindi era uscito questo scandalo che su tik tok c'era non so come si chiamava la mag challenge che si truccavano come se gli avessero menato e quindi proprio appeso in sala mensa perché glemorizzava questa storia qui vabbè e quindi dicevamo sempre tramite un gruppo facebook di youtuber questa volta con ob i miei attuali colleghi quindi simone santoro e gianluca a camister flame e io appunto avevo questo piccolo canale che coltivavo per hobby loro invece erano già belli avviati in occasione del romix ci mettiamo d'accordo per beccarci alla fiera e ci conoscemmo lì se non sbaglio la sera prima andammo a mangiare una cosa insieme con altri ragazzi e poi il giorno dopo andamo a questa fiera e insomma cominciamo a diventare amici quindi si cominciamo a frequentarci e nel giro di qualche mese usciamo abbastanza regolarmente regolarmente eccetera però ognuno insomma coltivava le le proprie diciamo i propri canali singolarmente poi sì simone ebbe bisogno di una controfigura di un personaggio all'interno di un suo video e mi chiamo per fare insomma questa questa piccola parte andò bene insomma ci divertì mo parecchio e poi da lì cominciamo a lavorare insieme anche per una cosa che dovevamo fare per la fox e una sorta di sceneggiatura eccetera e cominciamo a uscire con una certa frequenza da lì a poco a loro due venne quest'idea di andare su twitch gianluca già aveva ad occhiato twitch perché stava per esplodere ancora ti parlo ecco di due anni fa ancora non era esploso in italia e simone seguiva invece molti podcast esteri quindi volevano fare questa cosa condivisa e mi coinvolsero cioè mi informarono di quest'idea io immediatamente dissi a voglia facciamolo dato che forse l'unica cosa che so fare nella vita è parlare quindi ho detto bene e da lì piano piano aprendo questo canale su twitch cominciamo a streamare tutti i giorni domenica compresa per circa 4 5 mesi ok e senza saltare neanche quanto quanto tempo un una due ore perché ovviamente essendo un podcast avevamo un tema centrale e parlavamo quindi non è che puoi andare avanti per sei ore come quando giochi a fortuna chiaramente e con il duro lavoro cercando di migliorare costantemente anche lì all'inizio eravamo terribili ma è normale devi prendere i tempi devi comprendere come funziona la piattaforma come interagire bene con il pubblico come essere accattivante eccetera però dopo 4 5 mesi poi comunque simone e gialluca avevano già un loro pubblico anche se il trasporto da una piattaforma all'altra molto difficoltoso inizialmente non dico che siamo partiti a zero ma insomma stavamo molto bassi poi il prodotto cominciò a piacere perché effettivamente eravamo diventati decenti e dopo circa 4 5 mesi abbiamo avuto il primo piccolo boom e da lì in poi è stato tutto un crescendo in realtà fino a tre mesetti fa in cui siamo 3 4 mesetti fa in cui siamo arrivati insomma ad essere tra i primi tre canali di just chatting in italia e tre primi 15 in generale quindi un annetto e mezzo quanto c'è voluto come perciò più o meno più o meno un annetto e qualcosa si annetto e mezzo direi poi dipende quali obiettivi dicendo dopo un anno già era un obiettivo molto molto buono dopo un anno e mezzo abbiamo raggiunto insomma qual era l'obiettivo dopo un anno che era molto buono beh i viewer cioè gli spettatori medi ogni live stavamo intorno ai mille 800 mille si e soprattutto gli abbonati cioè sab e anche lì non ricordo ma penso sempre intorno 800 mil e adesso siamo oltre i 3.000 sono tanti 3.300 non sbaglio e insomma abbiamo fatto poi diversi picchi interessanti sono stati cerbero boscar i nostri oscar diciamo a concludere l'anno con vari premi eccetera la siamo arrivati anche a 5 mila spettatori oltre anche in periodo di sanremo che praticamente mentre c'era sanremo noi chiacchieravamo sopra facciamo il karaoke eco adopto Adonata l'occa 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 Grazie a tutti.